Allora l'azienda come hai detto tu è nata nel 1997 e l'ha fondata mio padre, Lino Pizza, che ha avuto una grandissima intuizione di accoppiare la facciata del pannello con il medesimo bordo. Poi dopo negli anni l'azienda si è sviluppata, si è ingrandita e ha avuto un percorso di un'evoluzione importante e quindi dal 1997 siamo arrivati al 2021 con un'azienda che ormai conta un fattorato importante sia a livello italiano che a livello europeo e con un'occupazione notevole e quindi un'azienda in continuo sviluppo e in continuo evoluzione. Diciamo che noi siamo molto contenti e molto soddisfatti di quello che stiamo facendo anche perché per noi siamo ormai diventati una garanzia per il settore proprio del mobile, per i nostri clienti, lavoriamo con i maggiori competitor a livello di produzione di mobili e quindi diciamo una realtà che non a detta nostra ma a detta degli addetti ai lavori e di tanti nostri clienti, nonché fornitori, è molto molto importante. Tu stessa hai parlato di evoluzione, la si può vedere anche qua in azienda, tutto nuovo anche rifatto, la zona degli uffici proprio moderna. Sì sì assolutamente, noi puntiamo molto sull'immagine ma anche sulla concretezza al di là degli uffici, il blocco uffici che comunque abbiamo ristrutturato, l'abbiamo allargato anche perché avevamo bisogno in quanto abbiamo assunto anche più persone, più personale per sviluppare il lavoro. Anche in fabbrica abbiamo implementato i nostri macchinari con macchinari di ultima generazione, quindi votati anche al 4.0, quindi con delle agevolazioni proprio perché sono macchinari innovativi, macchinari di ultima generazione e quindi tutti i mercati CE. E quindi questo diciamo che in questa fase, in questo momento congiunturale non semplice fa la differenza perché quando poi tu investi e come diceva mio padre bisogna investire sempre nei momenti di crisi perché poi quando il mercato riparte, quando poi le opportunità si propongono allora devi essere pronta a coglierle e noi abbiamo fatto questo. Una domanda è d'obbligo sulle periodo, ormai è un anno di questa pandemia, anche tu hai parlato di rapporti con l'estero, come si è evoluto sia il lavoro qua in azienda ma anche poi con l'export? Assolutamente sì, è stato un periodo ed è un periodo molto difficile, noi fortunatamente proprio per il motivo di cui ho parlato prima, il fatto di aver investito tanto, ci siamo difesi, ci stiamo difendendo, però ecco ci auguriamo tutti che passi il prima possibile perché poi questo momento difficile dal punto di vista sanitario, che è la prima cosa più importante, ha un riflesso anche molto importante da un punto di vista lavorativo, abbiamo fatto tanta cassa integrazione l'anno scorso, i nostri dipendenti per periodi purtroppo non hanno potuto lavorare, non sono potuti venire in azienda, quindi ecco la speranza che si allenti il prima possibile questo per ripartire sia a livello nazionale come mercato interno ma sia a livello internazionale, perché una cosa importante è che noi siamo leader del mercato interno in quanto ormai deteniamo il 40%, 35-40% della quota del mercato nazionale italiano, quindi rappresentiamo questo nel mercato del burdo in Italia, però ci stiamo spingendo anche all'estero perché abbiamo capito che comunque non potevamo solo lavorare in Italia, quindi adesso abbiamo preso anche dei commerciali esteri e quindi è importantissimo che questa situazione si risolva nel minore tempo possibile per cercare di ripartire alla grande.